Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 in apertura. Parliamo del sit-in che questa mattina è stato organizzato da WWF e Legambiente a Pescara in Piazza Sacro Cuore. Le associazioni ambientaliste chiedono alle istituzioni e alla politica in particolare di intervenire in maniera decisa e incisiva affinché non si ripeta quanto sta avvenendo in questi giorni in Abruzzo in termini di incendi. Il servizio di Alfredo Primante. Salvare i boschi dai piromani è un affare di tutti, lo dicono a chiare lettere WWF e Legambiente che assieme ad altre forze sociali e politiche questa mattina hanno organizzato un sit-in in Piazza Sacro Cuore a Pescara mentre sul Morrone si continua a combattere contro il fuoco, da Pescara si chiede alle istituzioni di intervenire in maniera decisa affinché quello che si è verificato in questa estate in Abruzzo, così come in altre regioni d'Italia, non si ripeta più. Chiediamo alla regione di dotarsi di una struttura di ingegno seria, chiediamo di eliminare quelli che possono essere gli interessi economici legati alla ricostruzione, tra virgolette, naturale. Chiediamo che si faccia chiarezza, che si stabilisca un piano, che si restituisca ai parchi e alle aree potette la possibilità di fare prevenzione attraverso volontari come si era sempre fatto in passato. Oggi stiamo cercando di fare una prima analisi di quello che è accaduto, ci sono delle criticità forti, evidenti, anche la riforma media nel passaggio della forestale forse non è riuscita a tenere dentro quel know-how di conoscenze e di operatività che prima la forestale aveva nella gestione soprattutto dell'antincendio boschivo. Dobbiamo capire insieme come migliorare questa situazione. In quella che vuole continuare ad essere la Regione Verde d'Europa, gli incendi, peraltro nel cuore delle aree protette nazionali, assumono un significato che va anche oltre il danno naturalistico ed economico. La Regione Abruzzo proprio ieri ha chiesto lo stato di emergenza. Difficile, dice il sottosegretario Mazzocca, quantificare i danni. Certamente però stiamo parlando di diversi milioni di euro. Nei prossimi giorni questi dettagli li faremo insieme alle forze dell'ordine, ai carabinieri forestali, ai vigili del fuoco, ma soprattutto sulla scorta di valutazioni che faremo come ufficio in stretta collaborazione con gli organismi, i gestori delle aree protette brussesi. A dare una mano a quanti stanno spegnendo l'incendio che da 14 giorni manda in fiamme il morrone, è arrivata la pioggia. Purtroppo questi disastri talvolta vengono generati veramente dalle disattenzioni, come dire, che ciascuno, che a volte delle persone, diciamo, mettono nelle proprie attività. Quindi ben vengano queste sit-in, questi incontri, proprio per favorire in primo luogo la prevenzione. Sarà bonificata entro il mese di novembre l'area dell'albergo di Rigopiano distrutto da una avalanga che il 18 gennaio scorso si è staccata dal Monte Siella. La decisione è stata presa nel corso della riunione tecnica che si è svolta ieri pomeriggio nella sede di Pescara della regione Abruzzo. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti di Prefettura, Comune di Farindola, Provincia di Pescara, Parco Nazionale del Gran Sasso, Monti della Laga, Consorzio di Bonifica Centro, Arap e Arta. Secondo le stime dei tecnici del Comune di Farindola, che ha provveduto a incaricare una ditta per i lavori di smaltimento delle macerie e del legnatico, l'area da bonificare è complessivamente di 8 ettari. Il Comune, peraltro, essendo stato inserito nel cratere sismico, potrà ricorrere a procedure speciali per lo smaltimento delle macerie e accelerare così i tempi di bonifica. È stata una mia precisa indicazione quella di inserire il Comune di Farindola nel cratere sismico, ha ricordato il Presidente Luciano D'Alfonso, per sostenere la comunità farindolese dopo questa tragedia che rimarrà indelebile. In seconda battuta, ha aggiunto, il mio obiettivo è dare a quei luoghi simbolo della montagna vestino un futuro. Nelle procedure di bonifica saranno coinvolti anche i rappresentanti del Comitato delle Vittime di Rigopiano. Il Presidente D'Alfonso si è impegnato, infine, anche a individuare nuovi fondi necessari a garantire il miglioramento degli assi biari della zona, riqualificazione del manto stradale delle provinciali Rigopiano-Castelli e Rigopiano-Farindola-Montebello-Penne. E poi per la cronaca, un ciclista di 60 anni, Carino Strozieri, è morto questa mattina verso le 6 lungo via Roma, nella frazione di Villa Rosa di Martinsicuro, dopo essere stato investito da una autovettura, il cui conducente non si è fermato a soccorrere l'uomo e ha fatto perdere le sue tracce. I soccorsi del personale del 118 sono stati inutili perché i traumi riportati dall'uomo nell'impatto sono stati fatali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Alba Adriatica e quelli della locale stazione. Segreti scomodi, disfunzioni ed emergenze che riguardano la sanità pescarese sono stati denunciati nuovamente questa mattina dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Vediamo. I numeri dicono una cosa, la realtà dei fatti è tutta al contrario di quello che descrivono i numeri dell'assessore Pauducci. All'interno dell'assessore di Pescara abbiamo un'apparecchiatura TAC-PET per fare la diagnostica oncologica che purtroppo ci costa ancora 5.000 euro al giorno e che in 10 anni abbiamo pagato qualcosa come 15 milioni di euro di canone di locazione a fronte di un costo per l'acquisto di appena 2 milioni di euro. Abbiamo fatto una grande battaglia con tre interpellanze regionali, un esposto alla Corte dei Condi per chiedere la fornitura di questa apparecchiatura in proprietà all'assessore. Dopo tanto ci siamo riusciti, un anno fa l'Az fa questo bando. Il problema è che non viene ancora installata l'apparecchiatura di proprietà e si continua a pagare ancora 5.000 euro al giorno. Quindi noi chiediamo immediatamente che si vada a rescindere il contratto di locazione e che si provveda all'installazione dell'apparecchiatura. Per la terapia e la cura c'è un altro macchinario che si chiama acceleratore lineare. Purtroppo nel reparto di radioterapia dell'Alz di Pescara permane ancora un acceleratore lineare obsoleto con una tecnica obsoleta che potrebbe anche compromettere gli organi a rischio del paziente. Anche lì abbiamo chiesto la sostituzione con un'apparecchiatura all'avanguardia. Non viene ancora installata, è stata acquistata, ma la dirigenza dell'Alz pensa ancora di far rimanere questo apparato obsoleto che a nostro avviso andrebbe dismesso. Poi c'è il vero cancro dell'Alz di Pescara che a nostro avviso sono i cosiddetti imboscati personale sociosanitario e infermieristico che assunto per stare nei reparti a prestare assistenza ai cittadini ce li ritroviamo imboscati negli uffici amministrativi a fare non si sa cosa. Noi pretendiamo che questo personale tornino nei reparti soprattutto per i tanti infermieri onesti che ogni giorno si spaccano la schiena perché devono lavorare per loro e per i cosiddetti fuori posto. Queste sono cose che vanno risolte immediatamente per una sanità veramente efficiente e che funzioni. Forte lotta al degrado della città dopo gli ultimi incresciosi episodi a Pescara. Il neoassessore Gianni Teodoro oggi ha illustrato le linee guida del suo mandato esecutivo affiancato dal comandante della Polizia Municipale Maggitti. Pugno di ferro in un guanto di velluto è questa l'espressione che ha usato il neoassessore alla Polizia Municipale di Pescara Gianni Teodoro alla sua prima uscita ufficiale dopo il rimpasto che l'ha portato all'interno della giunta Alessandrini. Teodoro ha descritto così le linee guida del suo lavoro in un settore strategico dell'amministrazione comunale di Pescara. Teodoro affiancato dal sindaco e dal comandante della Municipale Maggitti ha inteso rispondere così agli ultimi episodi di degrado verificatisi in città. La donna trovata morta sotto il tunnel della stazione centrale e il bagno con tanto di shampoo all'interno della nave di Cascella. Alessandrini e Teodoro, nel ribadire la necessità di collaborazione da parte dei cittadini, annunciano tolleranza zero contro chi non rispetta le regole. Certo, tolleranza zero. Toleranza zero perché noi raddoppieremo il numero degli agenti sulle aree, quelle già individuate, grazie anche alle segnalazioni ricevute in questo periodo. Questo per poter applicare appieno il decreto Miniti, che laddove vi è un reato o un illecito amministrativo, se lo stesso viene ripetuto nell'arco delle 48 ore e dalla stessa persona e viene chiaramente fermato nuovamente da parte degli agenti della Polizia Municipale, noi possiamo anche avviare il procedimento del cosiddetto foglio di via. A Pescara sono in arrivo rinforzi stagionali, dice il comandante della Polizia Municipale Maggitti. Si spera così di fronteggiare quella che sta assumendo i contorni di una emergenza degrado. Adesso abbiamo deciso con l'amministrazione, dato anche quelle che sono le situazioni di carattere legate alla parte finanziaria, di avere questo incremento di personale proprio per cercare di dare un maggior impulso a quelle che sono attività che adesso si vedono come straordinarie. Sicuramente il mese di dicembre occorre perché una città come Pescara è sicuramente piena di eventi ed altri. In questi due mesi cercheremo invece proprio queste attività minime di presidio, minime o meglio basilarie e preventive di presidio e di presenza sul territorio, di implementarle ulteriormente. Resta alta l'emergenza per l'abbassamento del livello idrico della diga di penne, problemi che si possono ripercuotere sulla produzione agricola nella zona destina. Dopo le abbondanti nevicate e la pioggia dello scorso inverno, nessuno si sarebbe aspettato un problema a livello idrico per quest'estate. E invece la mancanza di pioggia nel periodo estivo sta portando non pochi problemi all'agricoltura. Problema che riguarda anche l'area vestina. Infatti l'abbassamento del livello delle acque della diga di penne apre un periodo di emergenza per le tante aziende della Vale del Tavo che non ricevono acqua per irrigare dal consorzio da almeno 10 giorni, mettendo in crisi la produzione di olivo, vite e comparto zootecnico. Arrischia anche la produzione di mais, melanzane e pomodori e potrebbero riscontrarsi problemi anche per la produzione di verdure invernali come cavoli, carciofi e porri. Si teme anche per la produzione del fagiolo tondino del Tavo, varietà autoctona dell'area vestina. Il livello della diga di penne che vediamo dalle immagini ha toccato nei giorni scorsi il livello minimo di 240,53 metri, un abbassamento che ha costretto il consorzio centro a invitare le aziende ad un uso parsimonioso dell'acqua. Sul tema siccità è intervenuto anche col diretti Abruzzo che parla di una nuova cultura di prevenzione. Sarà necessario organizzarsi per raccogliere l'acqua nei periodi più piovosi attraverso interventi di manutenzione, recupero e riciclaggio, potenziando la rete degli invasi e creando bacini aziendali. È necessaria, continua col diretti, una ristrutturazione generale e riorganizzazione regionale dei consorzi di Bonifra che oggi non sono più adeguati alle esigenze delle imprese. Si avvicina all'inizio dell'anno scolastico e per alcuni bambini di famiglie pescaresi potrebbe essere precluso l'accesso alle menze perché indietro con i pagamenti delle rette la lista Teodoro chiede che queste persone possano mettersi in regola a rate. Vediamo. Raccogliamo io e il collega Teodoro numerose lamentele da parte di questi cittadini che si sono visti arrivare quasi tutti insieme i bollettini per il pagamento della mensa dell'anno precedente e ovviamente in una situazione di contingenza stanno riaprendo le scuole, i libri, i quaderni, tutto il necessario, l'occorrente si trovano in difficoltà per il pagamento di questa tariffa. Ovviamente noi chiediamo alla società, al sindaco con cui abbiamo parlato avremo un incontro l'edì mattina, io e il collega Teodoro e al dirigente e all'assessore competente di intercedere nella ditta e cercare di fare dei piedi di rientro in modo che possano pagare tranquillamente il dovuto per l'anno precedente e sbloccare la password che immette per ovviamente la questione relativa al mangiare per l'anno corrente. Non è possibile, sono bambini, non si possono essere divergenze, non è che all'interno di una classe due mangiano, cinque no e quant'altro. Il problema, sono sicuro che è un problema non difficile da risolvere e sicuramente l'azienda che somministra i pasti ci verrà in conto rispetto a questa cosa. Qui non parliamo di non pagare, qui parliamo di una dilazione del pagamento che è differente, per cui non si chiede di fare dei buoni. Siamo buoni, abboniamo tutto. No, le persone hanno la propria dignità, vogliono pagare ma non hanno questa disponibilità immediata. Per cui una dilazione del pagamento la riteniamo una cosa corretta e giusta. E come ho detto prima, siamo d'accordo con il sindaco e queste cose vogliamo informare i cittadini perché molti si sono lamentati. Ma i cittadini devono sapere con le conferenze stampa che questa amministrazione sta lavorando. Come vedete stiamo lavorando, ma questa volta stiamo lavorando tutti insieme veramente per il bene della città. Il duello a distanza che continua tra chi è favorevole alle vaccinazioni e chi è contrario a Proda in Abruzzo. Stamattina Pineto Lampas ha organizzato un incontro per fare chiarezza anche in vista della prossima riapertura delle scuole. Jacopo Forcella. La questione vaccini continua a far discutere posizioni contrapposte. Un pericolo per la salute oppure una risorsa da utilizzare seppur con tutte le cautele del caso. Ed è per cercare di fare maggiore chiarezza che Lampas ha deciso di organizzare un convegno nella sala polifunzionale di Pineto. Tutte le società scientifiche nazionali e internazionali concordano nel dire che le vaccinazioni sono utili, necessarie e non basta però l'obbligatorietà che una legge dello Stato ha posto su dieci vaccinazioni obbligatorie. è necessario anche che ci sia una grande e importante campagna di informazione, sensibilizzazione, coinvolgimento dei genitori, semplificazione dal punto di vista delle attività dei servizi. Peraltro adesso c'è anche, per quanto riguarda le scuole, questa nuova introduzione dell'autocertificazione che potrà bastare. Noi in Abruzzo stiamo facendo di più, il Dipartimento della Salute con il servizio regionale della prevenzione ha preparato un protocollo di intesa tra la sanità regionale, le ASL e l'ufficio scolastico regionale proprio per semplificare e alleggerire l'impegno che i genitori e le famiglie devono fare per questa documentazione. Una volta che nei prossimi giorni avverrà questa firma, l'ufficio scolastico regionale darà disposizione alle istituzioni scolastiche, ai servizi di infanzia, di procedere a trasmettere l'elenco degli iscritti alle ASL e le ASL provvederanno a trasmettere la documentazione di cui gli uffici scolastici avranno bisogno senza affaticare, appesantire e creare disagi ai nostri genitori. La questione sul tavolo però rimane viva e il professor Fabrizio Pregliasco, presidente nazionale Ampas, ha cercato di dare delle risposte a chi ancora nutre forti dubbi sulle vaccinazioni obbligatorie. I toni attualmente creati anche dai media, come sempre, che radicalizzano le posizioni, a mio avviso ha appesantito quelli che sono i dubbi rispetto a una quota parte di popolazione, comunque minoritaria, rispetto alla sicurezza ed efficace utilità dei vaccini. Io credo che senza gli eccessi di alcune contestazioni, io stesso sui miei social ho subito delle ingiurie ingiustificate, ma con una discussione e quello che, come sempre si dice a livello della medicina generale, è un'alleanza terapeutica per dimostrare che qualche evento avverso i vaccini ce l'hanno, ma assolutamente irrilevante rispetto ai vantaggi. Comunque i vaccini sono un pericolo o una risorsa? La domanda l'ho voluta io nel titolo e io dico sono una risorsa, una risorsa da gestire, da monitorare, ma sicuramente con un vantaggio positivo. E ora ci spostiamo all'Aquila, è cominciata con la partita del cuore, la fase aquilana della Maratona Jazz per le terre del Sisma. Il ricavato andrà in beneficenza per Amatrice. Sebbene non ci sia stata molta risposta da parte del pubblico, in campo c'era tanto entusiasmo per la partita di beneficenza tra gli amministratori pubblici e i gezzisti, la partita del cuore. Capitanata dal gezzista di fama Paolo Fresu, la partita del cuore ha lo scopo di raccogliere fondi per ricomprare gli strumenti musicali da donare ai musicisti di Amatrice, paese devastato dal terremoto del 24 agosto del 2016. L'idea di una squadra insieme agli altri, siamo qua per la solidarietà ovviamente, però dà l'idea di quella che è la squadra che questi giorni è in moto con centinaia di centinaia di musicisti, con direttori artistici di festival, fotografi, e tutto il mondo del jazz che si mette insieme per fare un unico gol stavolta. Se lo aspettava un successo così enorme in tre anni di questa manifestazione? Guardi, posso darle solamente una risposta. Quando pensai alla prima edizione, che era una cosa molto grande, la notte prima non riuscii a dormire, perché mi sono detto domani chi verrà all'Aquila a vedere 600 musicisti in 20 palchi che lavorano assieme in una città cantierata. Quindi avevo paura che letteralmente non ci fosse nessuno. Ci siamo alzati la mattina dopo, abbiamo visto centinaia, e poi migliaia e poi decine di migliaia di persone arrivare. Questo per dire che non eravamo assolutamente preparati, non credevamo dunque che pur volendo fare una cosa grande, importante, qual era quella che l'Aquila meritava, non avevamo veramente idea di essere in grado di fare una cosa così grande. Una cosa che sta crescendo nel tempo e che per noi è veramente importante, quanto sappiamo esserla per la Pigli Aquilani. Il jazz italiano rappresenta l'ultimo grande evento estivo del capoluogo ed anche la fase finale delle manifestazioni della perdonanza 723. Domani avrà la conclusione, la sua conclusione all'Aquila. Per tutta la giornata si alterneranno oltre 600 musicisti per chiudere davanti alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio con Mario Biondi, Gigi Telesfor e tutta un'altra serie di artisti. La cosa bella però è che è tutto destinato alla solidarietà perché domani avremo anche l'opportunità di raccogliere ulteriormente fondi, soprattutto lì appunto sul Prato di Collemaggio, da devolvere insieme al ricavato dalla vendita delle magliette della perdonanza jazz per la costruzione della sala polifunzionale ad Amatrice così come deciso insieme dai jazzisti, da personaggi del mondo del cinema, dal Comitato Perdonanza, dal Comune dell'Aquila e soprattutto dal Sindaco di Amatrice. Da questo pomeriggio prende il via a Pineto la sesta edizione del Memorial Mariani Pavone, torneo giovanile che ha visto nel recente passato protagonisti alcuni talenti calcistici approdati già in grandi squadre. Torna anche nel 2017 il Memorial Mariani Pavone a Pineto, il torneo giovanile che quest'anno si sposta a fine estate piuttosto che ad apertura della bella stagione e che ricorda due giovani ragazzi pinetesi scomparsi 21 e 22 anni fa. Otto le squadre impegnate tra cui anche Pescara e Pineto insieme a Roma, Fiorentina, Malmo, Aedux, Palato, Ascoli e Cesena. Tre i campi impegnati, quello di Pineto intitolato appunto ai due giovani ragazzi, quello di Atria e il Fonte dell'Olmo di Roseto. Si parte oggi fino alla finalissima di mercoledì pomeriggio. Complimenti a tutti gli organizzatori, sappiamo che è un torneo che viene dedicato in ricordo in memoria di Pavone, di Mariani, ma soprattutto un torneo che mette insieme squadre, non solo italiane, e che arricchisce diciamo il nostro territorio di quei valori fondamentali importanti dello sport, regole, solidarietà, rispetto, altruismo. Noi ne siamo orgogliosi, siamo orgogliosi sia per questi aspetti riguardo nel valore, i valori dello sport, ma siamo orgogliosi anche per il ritorno di maggio e grazie anche a queste iniziative importanti. Ne abbiamo visti parecchi, abbiamo visto, vado a memoria, da Orsolini al piccolo Chiesa che quando l'abbiamo visto noi era molto giovane, diciamo che come Costituzione si sarebbe dovuto crescere ancora un pochino. Abbiamo visto Orsolini, come dicevo, Biancu che era il regista del Cagliari l'anno scorso che ha fatto l'esordio in Serie A, ma anche Delicari che in questi giorni è passato alla Juve. Diciamo che abbiamo avuto la fortuna di dargli battesimo, noi riteniamo di aver dato un piccolo contributo anche alla loro crescita. Noi cerchiamo di fare meglio che possiamo, ovviamente siamo agli inizi, le altre sono partite anche prima di noi, però non ci facciamo né illusioni né partiamo comunque come la Cenerentola. Cerchiamo di fare soprattutto bella figura, questo è sicuro, poi i risultati quando ero pochissimo, soprattutto nei tornei, quando ero già poco in campionati giovanili, ancora meno ritengo nei tornei. I giovani sono il futuro, non lo diciamo noi, non lo scopriamo noi, ma è un dato di fatto. Per le società sono una grossa risorsa, logico ci vuole tutta un'organizzazione e la gente non sa tutto quello che c'è dietro, magari la riuscita di un giovane calciatore. Adesso anche in Italia si sta riscoprendo un po', anche tutte le riforme lo confermano, si sta riscoprendo come formare i tecnici, cosa serve a questi giovani. Insomma si cammina pari passo a questa evoluzione che c'è della società in generale, anche nel mondo giovanile si sta cercando un po' di alzare la proposta per portare dei ragazzi pronti al professionismo. E questi ultimi due servizi ci hanno introdotto di fatto alla pagina dello sport, parliamo di Serie B e di Pescara. Problemi in attacco per il Delfino in vista della trasferta di domani sera a Perugia. Senti gli infortunati Mancuso e Lattelatte, poi Capone che è impegnato con la Under 19. Del Sole è convocato ma rischia di non giocare per la mancanza di un documento dopo la cessione alla Juventus. La carta potrebbe arrivare dalla Lega nelle prossime ore, almeno è quello che spera Zeman che altrimenti dovrebbe completare il tridente d'attacco con uno tra Cappelluzzo, Baes e Balsania. Certi Pettinari e Benali, per il resto ha confermato l'undici che ha battuto il Foggia, tra i convocati anche il recuperato Zampano, Fornasier e il neo arrivato Canutè. Fuori causa Bovo e Campagnaro e nella conferenza pregara Zeman si è soffermato molto sul mercato appena chiuso. Vabbè, il mercato me lo aspettavo diverso, però sono soddisfatto di quelli che ci sono. Quindi, per approfondire, in che senso diverso è possibile saperlo? Cercavamo altri giocatori, sono arrivati, l'ho già detto l'altra settimana, sono arrivati altri giocatori, però per me anche questi hanno delle qualità di poterci aiutare. Io ripeto, sono arrivati 27 giocatori nuovi, prima che ci mettiamo insieme, prima che capiamo di cosa dobbiamo giocare ci passerà un po' di tempo, ma quello era anche in caso se si faceva un mercato diverso, non cambia niente. Le belle valutazioni, io faccio valutazioni su quello che c'era, nel senso che ci sono tante squadre che hanno giocatori che hanno già fatto qualche film, noi ne abbiamo pochi che si sono distinti finora nella carriera. Però io ripeto, per me sono giocatori di qualità, bisogna cercare di impostarli per riuscire a giocare insieme e per me ce la possiamo fare per cercare di competere. Io penso che è il residuo dell'anno scorso, nel senso che la squadra aspettava quando prende gol, noi su 1-0 ci siamo preoccupati quando succede qualcosa, meno male che non è successo e quindi ci siamo ritirati, è questione di mentalità. per me meritano tutti i 22 che ho convocato di giocare, poi sono le scelte e Gans non gioca magari ora come non giocava di Balala e Juventus, prima l'Europa, se l'Italia spazio. Non ce l'ho impressione, io penso che le prime partite non dicono le verità, bisogna aspettare più tempo. Cioè in questo momento che fascia occupa il Pescara? Nessuna fascia, per me siamo tutti uguali però. In Serie C il Teramo osserva già il turno di riposo, la squadra di Asta tornerà in campo a Vicenza la prossima settimana per la terza giornata. Domani invece inizia il campionato di Serie D, il girone F in particolare vediamo il primo turno, non ci sono derby, Avezzano-Jesina, Campobasso-Sangiustese, Castelfidardo-Nero-Stellati, Francavilla-Fabriano-Cerreto, L'Aquila-Monticelli, Matelica-Pinetto, Agnonese-San Nicolò, Re Canatese-Vispesaro e San Marino-Vastese. Il servizio di presentazione. Sabato di vigilia per l'inizio del campionato di Serie D, a renderlo più intrigante ci sono due aspetti, il primo che il numero di squadre della nostra legione è salito a sette, il secondo che sono state inserite tutte nello stesso girone dopo la scissione dello scorso anno. Grande attesa su più fronti per un raggruppamento che allo Stato fa fatica a individuare un potenziale padrone e attende le prime risposte del campo. L'Aquila per Blasone e per il fatto che rappresenta il capoluogo d'Abruzzo è chiamata ad essere protagonista, ma le tensioni interne, il cambio di proprietà, il ritardo nell'allestimento della Rosa e nella partenza per il ritiro complicano i piani. Sulla carta la squadra più attrezzata sembra essere l'Avezzano, il patron Paris ha investito tanto e messo in organico i giocatori in grado di fare la differenza, anche se il precampionato è stato caratterizzato da una serie di avvicendamenti sulla panchina e dalla prematura partenza di alcuni calciatori, comunque prontamente rimpiazzati. L'esordio di domani dirà se queste tensioni agostane sono state metabolizzate. Dopo l'anno da matricola contano di dare continuità e di consolidarsi Pineto e Vastese. La squadra del confermato Amaolo ha fatto un buon mercato elevando il tasto tecnico della Rosa che può competere per un posto playoff o addirittura inserirsi per quella al vertice. Appena un gradino sotto sembra essere la Vastese che è tornata nelle mani di Colavitto e si affida a due vastesi doc come Stivaletta e Fiore per una stagione ricca di soddisfazioni. Stagione piena di incognite per il San Nicolò che ha perso l'asse Epifani Micciola affidandosi a De Angelis DS e il debuttante Campanile in panchina. Un parziale ridimensionamento dell'organico e il fatto di giocare le gare casalinghe a Morodoro mettono la stagione in salita e l'obiettivo è quello della salvezza. Quindi le neopromosse. Con la nuova ambiziosa proprietà targata a Candeloro il Francavilla sogna un campionato importante anche se la stagione è iniziata in ritardo. Staff tecnico e dirigenziale sono di primo ordine e se l'avvio di campionato sarà positivo il Francavilla potrà competere per altri obiettivi anche se la priorità resta la salvezza. Che è l'obiettivo primario dei Nero Stellati, la compagine pratolana sulla cui panchina è stato confermato di marzio e al debutto assoluto nella categoria. Con l'arma dell'entusiasmo proverà a tenersi stretta la Serie D conquistata a sorpresa pochi mesi fa. Curiosamente la prima giornata sarà senza derby ma nella stagione ce ne saranno tantissimi e aumenteranno sempre più l'attenzione verso un campionato che TV6 ancora una volta seguirà in prima fila con aggiornamenti dei risultati in diretta stadio il pomeriggio e i servizi e le interviste dalle 19.30 con l'Abruzzo del Pallone. E ora parliamo di due squadre che domani inizieranno il campionato. Partiamo dal Francavilla con le parole alla vigilia del neotecnico Iervese. Francavilla che è privo di alcuni importanti elementi ma non manca l'ottimismo. Io in questo momento sono molto contento perché è un gruppo eccezionale che si allena sempre al massimo, mi hanno dato la loro disponibilità e quindi abbiamo fatto queste due partite di Coppa Italia anche se come si dice non è il calcio che conta in questo momento però devo dire che mi hanno dato dei segnali molto positivi. Sicuramente manca ancora un po' di lavoro perché siamo partiti in ritardo, abbiamo qualche problemino ancora fisico di alcuni elementi importanti ma chiunque giocherà sono convinto che alla prima di campionato darà il massimo. Gigi Iervese, già calciatore del Francavilla, ora allenatore, anche la prima esperienza tra i grandi per Iervese. Che momento è per anche la tua carriera? Devo dire che era quello che desideravo. Dopo sei anni di settore giovanile bellissimi nel Pescara colgo l'occasione per ringraziare il Presidente e tutta la società perché mi ha dato la possibilità di crescere e di confrontarmi anche con tecnici bravi. Per me sono stati anni importanti e formativi. Era quello che desideravo, iniziare a allenare grandi, era un desiderio mio. Nel Presidente e la società mi ha dato questa bruttità. Speriamo di non deludere e di ripagare la fiducia del Presidente e della società. Inizio ostico per il Pineto che punta a consolidarsi in questo campionato dopo una buona campagna acquisti. Domani la gara a Matelica. Ascoltiamo cosa ha detto ai nostri microfoni il DG Giammarino. Roberto Giammarino, il tempo del precampionato è finito. Domani si parte. L'esordio a Matelica diciamo non l'esordio più morbido che ci si poteva aspettare. Però il Pineto quest'anno può dire grandi cose in questo campionato. Noi affrontiamo tutte le partite. Sono importanti e le affrontiamo tutte con lo spirito giusto. è vero quello che dici tu. Pineto ha avuto un calendario in salita. Però andremo con la serenità di giocarci le nostre chance con tutte le squadre che incontreremo. Poi vediamo. La Coppa Italia è stato un po' un antipasto, una prova generale probabilmente quella con l'Aquila nel campionato che sarà. Che tipo di campionato si aspetta Roberto Giammarino? Innanzitutto mi aspetto massima benedizione dai ragazzi e coesione perché abbiamo cercato di creare un gruppo coeso. Già questo ci fa ben sperare. Poi i campionati sono così. Io mi aspetto un buon campionato al Pineto. Spero di raggiungere in fretta la salvezza e poi vedere se possiamo torci delle soddisfazioni. Chiaramente è un organico per noi costruito con i giocatori che voleva il mister. Abbiamo fatto un buon gruppo. Adesso non ne siamo molti. Abbiamo tanti fuori quota. Però la politica è quella. Cercheremo di onorare e di far piacere ai nostri dirigenti, al nostro presidente Silvio Abbrocco. È tutto per questa prima edizione del TG6. Le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti.